che per me non ci sta se qualcuno sa e ha conoscenza di qualcosa lo dica perché se non vengo a sapere io sono io il primo ad andare a pronunciare ma queste situazioni non sono tutte le norme scusate lo sfondo perché questo è la prima allora io termino la cronistica